Salve e bentornati al TG Lego, io vi ricordo che per mandare le foto delle vostre collezioni potete mandare 5 immagini a vitoiuara.gmail.com Settimana con parecchi rumors, uscite varie Partiamo intanto dal biliardino, l'Ideas 21337 che dovrebbe uscire il 1 novembre 350 dollari Mi era passata per le mani anche un'immagine in cui si vedevano i due calciatori Non so se era un fake o se l'hanno fatta togliere Lego, ma non la trovo più e non ho potuto mostrarvela Tutta una serie di, non proprio rumor in realtà, leak oppure informazioni riguardo i prossimi set di Star Wars in uscita nel 2023 da Promobrix Sappiamo che dovrà uscire un Microfighter dello Sleduno Poi abbiamo due set di Mandalorian Season 3 Il TIE Bomber a 65 dollari Quelli di Mandalorian sono uno da 35 e uno da 100 dollari Abbiamo informazioni sui caschetti Abbiamo Capitano Rex e Commander Cody Più un terzo dedicato ai personaggi di episodio 6 che usciranno insieme più o meno, sempre periodo marzo Poi abbiamo un paio di dorama Death Star Throne Hall e End of Speeder Bikes C'è la roba lì in mezzo ai boschi Il primo 100 dollari, il secondo 80 dollari Il 4 maggio è previsto un UCS set da 240 dollari Non so se è Razor Crest o altro E non so se ne uscirà uno prima E questa è la Wave di marzo E l'altro elmetto l'abbiamo detto Comunque tanta roba di Star Wars Leggo questa serie ovviamente Continua a spingerla tantissimo Altro caschetto Sarà invece su Black Panther Il 76 214 545 pezzi E dovrebbe uscire il primo ottobre Ad 80 dollari Vi faccio vedere invece una cosa ufficiale Che arriveranno da Target E costano tipo da 20 a 25 dollari Sono dei peluche di Harry Potter Sono molto carini se vi piace l'argomento Insomma Qui in Italia non si sa ancora dove verranno venduti Non so se anche questi Come per il set quello specifico Ideas di Target Anche questi su Lego Shop Rumor di questa mattina invece Lego farà uscire dei banner Delle casate di Harry Potter Costeranno 35 dollari cada uno E ogni set dovrebbe comprendere Tre minifigure Ovviamente saranno legate ognuno alla casata Chiudiamo con tre Lego a Dias Anche questo episodio di TG Lego Che spero vi piaccia Mettete un follow al canale Se le cose vi interessa Abbiamo lo squalo Ce ne sono stati diversi Questo è quello che mi piace di più Perché c'ha una bella sensazione di movimento Del film lo squalo È veramente un bel set È bello fatto così a diorama E fatto così potrebbero fare veramente tanti film Fare una cosa simpatica Poi abbiamo la Clessidra Che ovviamente dovrà muoversi Adesso non ho letto bene i dettagli Ma vi metto come al solito I link in calcio al video E chiudiamo con questo Gundam Davvero 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 ben fatto Anche se non gigantesco Io vi ringrazio Ci vediamo prossimamente Sono in attesa dei pezzi Quelli per il primo mock di Optimus Prime Se arrivano in settimana Faremo qualche montaggio insieme Grazie a tutti Arrivederci Alla prossima Ciao Ciao Ciao